Prova. Funziona. Buonasera. Buonasera a tutti. Buonasera Piazza Garibaldi che ci è mancata per tanto tempo. E buonasera alla bellissima comunità di San Bartolomeo in Calda. Quattro anni fa, lo ricordo come se fosse ieri, in questa stessa piazza chiusi la campagna elettorale, chiedendovi di credere in noi, chiedendovi di credere in me, vi citai, lo ricorderete sicuramente perché vi tartassai un po' nella campagna elettorale, vi citai Martin Luther King, ma in particolare quella sera vi richiamai un'affermazione di Martin Luther King. I have a dream. Io ho un sogno. Ed io avevo, io avevo un sogno. Noi avevamo un sogno che poi è diventato il vostro sogno. E sì, ve lo dico non nascondendo neanche quel briciolo di emozione che stasera mi accompagna. Quel mio sogno, quel vostro sogno è diventato, quel nostro sogno è diventato il sogno di voi tutti e vi dico che non c'è emozione più bella che vederlo giorno per giorno realizzarsi, concretizzarsi, crescere. Ecco perché stasera come dicevo vi parlo con molta più emozione. Quattro anni fa avete creduto nel nostro progetto ma noi eravamo a mani nude. Noi non avevamo nulla da presentarvi se non la nostra credibilità, la nostra passione, il nostro impegno profuso in professioni diverse il nostro sogno appunto oggi invece a distanza di quattro anni mi giro indietro mi guardo alle spalle osservo il percorso fatto e vedo un commovente percorso che non sembra di quattro anni ma sembra di 40 anni di vita amministrativa. sono quattro anni di duro lavoro quattro anni di rinunce per ognuno di noi quattro anni di graticola per ognuno di noi perché nel bene o nel male l'amministratore l'amministratore è sempre esposto non solo a critiche ma spesso anche a male lingue. Quattro anni di di litigi in famiglia per ognuno di noi ve lo posso assicurare non è semplice per chi ti sta accanto accettare che tu non abbia orari imprevisti ogni giorno eccetera eccetera ma tutto questo lo dico senza filtri tutto questo è ampiamente ripagato dal vostro calore e tutto questo è ampiamente ripagato da quelli che possiamo definire sicuramente come quattro anni di successo senza precedenti ed oggi vorrei ripercorrere insieme a voi le tappe più importanti però non non voglio fare un un elenco di opere sarebbe troppo noioso e davvero dovremmo stare qui fino a domani mattina vorrei invece ragionare e farvi farvi comprendere vorrei ragionare insieme a voi sul cambio di passo che c'è stato nell'azione amministrativa sul cambio di passo che c'è stata nella nell'impostazione dell'ente partiamo da un dato tutto ciò che abbiamo realizzato che stiamo realizzando e che andremo a realizzare non è gravato e non graverà per un solo centesimo nelle vostre tasche ammontano a 27 milioni 963 mila 654 euro le somme straordinarie intercettate dall'amministrazione Agostinelli in soli quattro anni di attività tre mesi fa quando mi intervistò il mattino eravamo fermi a 24 milioni oggi ne sono 28 guardate non esistono riferimenti neanche minimamente paragonabili nella storia di questa comunità a dire il vero non esistono riferimenti neanche minimamente paragonabili se allarghiamo il raggio di azione non solo al circondario perché siamo riusciti realmente ad indecertare molte più risorse di comuni anche dieci volte più grandi di noi e se consideriamo il punto di partenza e il periodo di riferimento in cui operiamo da quando ci siamo insediati il risultato appare addirittura più ampio il primo anno lo ricorderete tutti arrivò un'ordinanza della Corte dei Conti abbiamo studiato notte e giorno per evitare che il Comune andasse in dissesto vedo con immenso piacere in prima fila il Dottor Michele Ferro che ringrazio perché di notti insieme a me ne ha passate in quell'epoca più di una adottammo con molto coraggio la strada del riequilibrio pluriennale con un'esposizione pari a 4 milioni 890 mila euro cioè 5 milioni di debiti noi non siamo partiti da zero siamo partiti da meno 5 e in 4 anni abbiamo ripianato programmato progettato ottenuto i finanziamenti e realizzato le opere che stiamo realizzando e è sotto gli occhi di tutti voi lo vedete davvero dopo aver detto questo io il mio comizio questa sera potrei chiuderlo qua se poi consideriamo che abbiamo anche vissuto un periodo di stretta e di congiuntura economica senza precedenti il risultato di per sé formidabile in qualsiasi contesto acquista ancora più valore per non parlare degli ultimi 18 mesi che hanno rallentato tutto e messo in ginocchio il mondo intero ma noi non ci siamo persi d'animo abbiamo con forza e con commissione accettato la la sfida e i risultati come dicevo prima sono sotto gli occhi di tutti il paese si sta trasformando una mole di investimenti straordinari sta cambiando volto alla nostra sta facendo sì che la nostra comunità cambiasse volto ed il tutto rappresenta un gettito non indifferente di risorse nell'economia locale il coinvolgimento di aziende locale la possibilità di lavoro per più famiglie oltre alla sistemazione di problemi davvero storici dalle scuole alle strade alle piazze il comune è un un intero cantiere lo vedete tutti certo stiamo vivendo non pochi disagi perché davvero non per per dire una frase fatta ma davvero il comune è un intero cantiere ho chiesto formalmente all'ufficio tecnico di interrompere i lavori nella parte urbana del paese per il mese di agosto per far sì che la comunità le attività in modo particolare e i cittadini residenti fuori San Bartolomeo e che ci gratificano ogni anno del loro rientro in questa comunità possano vivere nel migliore dei modi la pausa estiva e ringrazio di cuore l'ufficio tecnico per aver prontamente accolto questa richiesta subito dopo le feste riprenderanno non solo questi cantieri quindi non solo la continuazione dei lavori del centro urbano che già si stanno svolgendo ma in concomitanza ci sarà anche altro proprio nel centro perché in concomitanza ci saranno i lavori che interessano piazza Garibaldi piazza Umberto I via San Francesco via Mondauro Largo Sebastiano tutta via San Mito Monte dei Carpini insomma tutto Vadoricci ed i disagi aumenteranno io vi chiedo scusa fin da ora ma i disagi aumenteranno però è inevitabile amici miei è inevitabile se davvero vogliamo cambiare il volto di questa di questa comunità del nostro Borgo non c'è alternativa e francamente però facendo una riflessione basta allungare di pochi metri lo sguardo basta soffermarci su quel tratto di piazza Garibaldi già realizzato se vi girate potete vederlo tutti o su quel tratto di via Margherita già realizzato per affermare senza alcun dubbio che davvero ne è balsa la pena stesso discorso per la viabilità rurale dove abbiamo ottenuto finanziamenti che prima d'oggi non si erano mai visti stiamo sistemando strade prive di manutenzione da almeno trent'anni strade che ormai erano impercorribili l'unico appello che ancora una volta mi sento di rivolgere a tutti è quello di sapercele mantenere guardate non è bello per il comune far partire delle sanzioni perché non viene rispettato il codice della strada o il regolamento di polizia rurale non è bello non è gratificante per nessuno non c'è nessuno che gode in quel momento se la legge prevede che devi arare a tre metri dalla strada ci sarà un perché devi arare a tre metri dalla strada se la legge prevede che devi regimare le acque e condurle nei canali di scolo cioè se prevede che devi fare sciacquature ci sarà un perché e devono essere fatti e poi addirittura l'attraversamento con i cingoli sulle strade appena rifatte è per piacere non sono regole che abbiamo inventato noi sono leggi che esistono da sempre e che forse magari ci stiamo sforzando di farle rispettare le regole sono belle proprio perché sono delle regole perché valgono per tutti e perché devono essere rispettate altrimenti sarebbero dei consigli invece no sono delle regole senza considerare che sono anche comportamenti che normalmente dovrebbero appartenere al buon senso di ogni buon cittadino diversamente ve l'ho detto anche in altre circostanze possiamo farle anche la stricata d'oro le strade ma se davvero non le consideriamo nostre se non non mutiamo atteggiamento se non ci comportiamo come se fosse davvero casa nostra quindi se non ci comportiamo con lo stesso atteggiamento che riserviamo a casa nostra nel giro di pochi anni o forse di pochi mesi staremo nuovamente punto e a capo fortunatamente sono comportamenti che appartengono ad una parte molto minoritaria del mondo agricolo ma della comunità in genere non è che va puntato molto spesso siamo anche abituati a puntare il dito contro una categoria e non sempre è così perché chi vi risiede ne ha cura meglio degli altri magari non è quello stanziale è quello che ci va una volta ogni tanto o una volta all'anno che è incurante di quel bene e vorrà dire che dovremo sforzarci a convertire anche questi pochi e in un modo o nell'altro dovranno capirlo o lo capiranno o lo capiranno insomma potrei parlarvi per ore di tutti i lavori in essere e di quelli a farsi ma come dicevo prima non voglio tediarvi non è questa la sede tanto per per la costante comunicazione che abbiamo sempre avuto in questi anni siete a conoscenza di di tutto i lavori che si stanno facendo li vedete quelli che dovranno iniziare li vedrete ma già li conoscete teatro scuola fognatura acquedotto pubbliche illuminazione valorizzazione del bosco campetti il padol molto probabilmente anche un finanziamento della villa comunale la verità miei cari con cittadini è una sola la verità è che si è totalmente cambiato registro la verità è che è cambiata la musica questa è la verità tutto tutto quello che appariva un sogno oggi è una realtà è il frutto di un lavoro quotidiano ed intenso un lavoro di una intera squadra una sinergia ed un'intesa non solo tra noi amministratori ma un'intesa anche tra l'amministrazione e gli uffici ed un'intesa e una sinergia ritrovata anche tra il comune e i vari altri enti istituzionali guardate miei cari con cittadini questi questi davvero sono i traguardi che mi rendono ancora più orgoglioso sono tutti aspetti che apparentemente non si vedono non si riescono a toccare con mano cioè una strada io la vedo la tocco con mano un'opera che realizzo la tocco con mano la sinergia il rapporto che si è creato il clima di lavoro anche che si è creato negli uffici comunali dell'ente voi fate fatica evidentemente a vederlo è normale ma sono traguardi che oltre a rendermi a renderci orgogliosi sono alla base di tutti i successi che stiamo avendo e di tutte le opere che stiamo facendo se non avessimo avuto il coraggio e la forza di adottare quel piano di equilibrio pluriennale avremmo mandato il comune in dissesto ed oggi sicuramente staremo parlando di altro e se non fossimo riusciti ad instaurare questo clima nell'ambiente di lavoro negli uffici la maggior parte delle cose non le avremmo proprio fatte questo come dicevo prima è l'aspetto che mi inorgoglisce di più il comune con tutte le difficoltà nonostante i pensionamenti nonostante davvero non ci sia rimasto quasi più nessuno a lavorare al comune il comune è una macchina efficiente pensate che siamo passati da oltre trenta dipendenti a dieci dipendenti di cui due part time e nonostante questo nessuno di loro si è mai tirato indietro rispetto al carico di lavoro che aumentava giorno per giorno i dipendenti diminuiscono diminuiscono le incombenze aumentano eppure ognuno di loro si tira indietro rispetto al carico di lavoro che comunque aumenta e quindi il mio grazie questa sera va innanzitutto a loro ai dipendenti a tutti i dipendenti comunali del comune di San Bartolomeo in caldo non ci sono fazioni non ci sono distinguo non ci sono squadre pro o contro il sindaco certo ognuno magari ha più simpatia o meno simpatia ma ognuno di loro tutti indistintamente ognuno di loro si spende per il bene della comunità insieme al sindaco accanto al sindaco e accanto a tutta l'amministrazione comunale ed un altro elemento alla base del successo di questa amministrazione è stata come dicevo prima la capacità di instaurare rapporti solidi produttivi profiqui quotidiani e sinergie istituzionali senza precedenti con tutti gli enti tutti nessuno escluso con la provincia con la regione con i vari ministeri con l'asl con l'anas abbiamo sinergie che hanno portato e portano a risultati sui quali nessuno avrebbe scommesso un solo centesimo un esempio per tutti è proprio l'anas amici miei ma ce ne siamo scordati com'era questa strada fino ad un anno fa e davvero pensiamo che solo perché l'anas sia rientrata in quella competenza si sia svolto quel lavoro dietro dietro c'è una sinergia una programmazione ed un'intesa che richiedono un impegno quotidiano davvero fuori misura non è un caso non è un caso che per la prima volta nella storia di questo territorio di questa comunità i lavori partono da San Bartolomeo e Ingaldo e vanno verso Benevento vanno verso San Marco per ottenere questo amici miei non credo che debba dirvelo io ci vuole un peso politico territoriale non da poco ed è lo stesso peso ed è la stessa sinergia istituzionale che ci ha consentito di incidere positivamente sull'egreggio lavoro che sta portando avanti l'ingegnere montesano commissario straordinario per la realizzazione della fortorina che ringrazio davvero ed infinitamente di cuore un ringraziamento che va a lui per l'operatività e per l'approccio per come sta svolgendo questo lavoro ma un ringraziamento che va anche e soprattutto al nostro conterraneo già presidente del consiglio giuseppe conte è stato giuseppe conte che ha voluto e che ha determinato il commissariamento dell'opera ed è stato mario draghi che ugualmente ringrazio che ha formalizzato la nomina dell'ingegnere montesano quale commissario per la realizzazione dell'opera questo nostro modo di fare questo nostro modo di essere questa questa sinergia istituzionale che abbiamo messo in campo ha fatto sì che argomenti storici sui quali si sono spesi fiumi di inchiostro e di parole due termini ormai diventati tabù indoccabili due termini indoccabili questa sinergia ha fatto sì che questi termini diventassero di nuovo attuali con una svolta epocale parole che io stesso quattro anni fa in campagna elettorale non ho mai pronunciato mai ma due problemi ai quali fin dal primo giorno in silenzio ho dato l'anima fortorina ed ospedale ci sto mettendo la faccia ve lo dico senza filtri e cascasse il mondo se il padre eterno continuerà a darmi la forza di cui ho bisogno e voi continuerete a credere in me e in noi il giorno dell'inaugurazione spareremo fuochi e dovrà rimanere veramente nella storia di questa comunità a proposito dell'anas sento il dovere di chiarire una questione e di toccare un argomento molto sentito e sul quale si stanno diffondendo anche un'infinità di affermazioni molto poco veritiere per non definirle bagianate e parlo del semaforo sulla variante innanzitutto chiariamo un aspetto il semaforo sulla variante è stato l'alternativa alla chiusura della strada da subito chiariamo questo la chiusura era la soluzione principe che anas voleva adottare anas aveva già predisposto il provvedimento e solo dopo pressioni di ogni tipo che non sto qui a dirvi finalmente anas ha curvato su quest'altra soluzione non vi dico le carte che abbiamo dovuto spendere e che abbiamo dovuto giocare per arrivare a questo favorevolmente ecco un aspetto importante ha inciso in modo molto favorevole sulla questione il fatto che avessimo già appaltato le strade del centro urbano ragion per cui i lavori nel centro urbano la chiusura della variante avrebbe determinato un gollasso e questo ci ha dato molta forza molto peso nel poter incidere e far cambiare quella quella decisione quindi non piace a nessuno ma è inutile mostrarci stanchi e scocciati del semaforo il semaforo non è una questione di giorni tra pochi giorni si risolverà e lo toglieranno il semaforo è una questione di mesi se non di anni e vi spiego perché quel semaforo accompagnerà tutti i lavori di rifacimento dei viadotti che ancora oggi non iniziano e quindi immaginate la durata i viadotti della variante vanno rifatti tutti e badate bene è inutile che giriamo intorno a un problema e non lo chiamiamo per nome il problema va preso ripeto va affrontata va detta la verità e le cose vanno chiamate col nome proprio il rifacimento dei lavori badate bene comporterà per alcuni mesi la chiusura della variante e questo sapete perché? perché tutti i viadotti verranno riconsolidati evitando la demolizione mentre per uno in particolare che è l'ultimo scendendo è quello diciamo sotto al comune per intenderci per quello ANAS ci ha comunicato che non c'è alternativa non c'è altra strada da seguire rispetto alla demolizione e ricostruzione quindi occorre mettersi l'anima in pace noi abbiamo attivato e stimolato la sistemazione della variante e ci siamo riusciti e questo dovrebbe inorgoglire tutti dovrebbe inorgoglire tutta la comunità ANAS dopo una serie di non dico pressioni ma pressioni ha ottenuto il finanziamento per il rifacimento come dicevo prima di tutti i viadotti ma questo dobbiamo saperlo fin da ora comporterà disagi per la comunità alla stregua dei disagi che stiamo vivendo con tutti i lavori che stiamo facendo un'opera un'opera o la si fa o non la si fa quando la si deve fare dobbiamo accettare anche i disagi che questo comporta e quando sistemiamo case quando ognuno di voi deve sistemare solo una camera nella propria casa che l'ambiente diventa immidibile figuratevi la sistemazione di un di un paese intero e con il semaforo quindi amici miei dovremmo imparare a commiverci fino a quando non verrà consolidato il viadotto lungo cioè quello all'interno dei due semafori fino ad allora l'alternativa a quel semaforo è la chiusura della strada questo per dirlo senza mezzi termini e un unico chiarimento vorrei fare non ho disposto io l'installazione di quel semaforo semplicemente perché non è una mia competenza la competenza è dell'ANAS io come vi ho detto prima insieme a tutta l'amministrazione ho fatto pressioni affinché la strada non fosse chiusa già da ora ma per il periodo strettamente necessario ai lavori di demolizione e ricostruzione di quell'unico viadotto che necessita di questo intervento quindi lo dico a chiare lettere chi dice che il sindaco e lo motiva anche perché dovrebbe dovrebbe essere una competenza del sindaco è chi dice che il sindaco trattandosi di una strada che attraversa il centro urbano potrebbe ordinare la rimozione del semaforo installato dall'ANAS o in mala fede o mente spudoratamente o è ignorante in materia a voi la scelta quindi quindi non è lo ripeto che io sia contento o amante del del semaforo cioè parole ne escono pure a me quando passo sulla variante guarda caso tutte le volte che passo il russo semplicemente me ne faccio una ragione perché come dicevo prima l'alternativa è peggio dell'attuale soluzione certo come in tutte le altre cose anche in questa il covid non aiuta il covid ha rallentato e non poco tutte tutte le procedure ogni cosa è chi l'avrebbe mai detto torniamo indietro a due anni fa chi di voi si sarebbe aspettato una situazione del genere ormai è un anno e mezzo suonato che viviamo con con la paura e le sofferenze di questo maledetto virus è un anno e mezzo che subiamo le conseguenze amministrative economiche e sociali di questa pandemia che ha messo in ginocchio un mondo intero ci siamo trovati a gestire cose che nessuno conosceva ci siamo inventati soluzioni situazioni complesse difficili la filiera istituzionale che faceva acqua da più parte mi sono visto costretto ad adottare scelte non semplici ad inventare provvedimenti ma non ho esitato non abbiamo esitato nessuno di noi ed anche in questo lo dico con orgoglio la nostra comunità è stata esemplare è stata una vera comunità ed è stato un mero riferimento per tutti ed anche in questo caso il merito non è tutto mio e non è solo mio a parte la vicinanza dei miei amministratori a volte anche solo fisica o morale ma faceva tanto vi assicuro che ha fatto tanto perché erano momenti di reale solitudine a parte quindi la loro vicinanza anche in questa circostanza abbiamo messo in campo una sinergia istituzionale locale che davvero è stata una macchina da guerra sindaco amministratori ed ente comunale inzenzolato polizia municipale carabinieri protezione civile misericordia ASL abbiamo messo in piedi un un costante canale di comunicazione ed una capacità di azione che c'è stata da più parti immediata e a tutti davvero a tutti dico grazie di cuore io da solo avrei potuto fare ben poco e grazie soprattutto a voi cari San Bartolomeani grazie a voi miei cari concittadini grazie per il rigore con cui avete attuato ogni direttiva piacevole o meno anzi il più delle volte poco piacevole grazie per il modo composto con cui avete sempre reagito ed è stata la vostra compostezza il vostro rigore il vostro rispettare scrupolosamente le regole da parte di tutti o quasi tutti che ci ha consentito di poterci spingere l'anno scorso lo ricorderete tutti nell'organizzare un po' di feste estive ricorderete che l'anno scorso siamo stati l'unico comune del circondario e forse uno dei pochi dell'intero stivale a redigere ed attuare un calendario per le feste estive lo facemmo valorizzando soprattutto artisti locali e quest'anno amici miei vorremmo replicare la stessa esperienza pur se le norme sono molto stringenti anche più dell'anno scorso vorremmo comunque non rinunciare alla festa per il nostro paese lo facciamo per aiutare le varie attività perché sappiamo bene che quello che fanno in estate forse non lo fanno nell'intero anno lo facciamo per per accogliere nel migliore dei modi tutti i san bartolomeani che vivono fuori e che come dicevo prima ogni anno ci onorano del loro rientro in paese lo facciamo per tutti noi perché sappiamo bene quando la nostra comunità sia legata agli eventi estivi ed alla festa del santo padrone ed abbiamo bloccato anche un cantante famoso per un concerto vorremmo cimentarci anche in questo a dire il vero è una cantante ed oltre ad essere molto brava ha anche una bella presenza e quindi amici cari vi dico che quest'anno salvo complicazioni a san bartolomeo avremmo il concerto di anna tatangelo ora ascoltatemi bene perché vi spiegherò un po' di cose questa era la parte bella ma occorre capire come attuarla innanzitutto il concerto ci sarà il 25 e non il 26 come storicamente si è sempre fatto questo semplicemente per un motivo di disponibilità e di organizzazione quindi concerto e fuochi quest'anno ci saranno il 25 agosto nel rispetto di tutte le norme vigenti ed in particolar modo nel rispetto del decreto legge quello ultimo il 105 del 23 luglio 2021 che entrerà in vigore proprio domani 6 agosto 2021 il concerto ma anche altri eventi pursi all'aperto occorre farli in uno spazio confinato con accessi controllati al concerto ma non solo a quello poi lo vedremo si potrà accedere solo con Green Pass ora lo sapete meglio di me come si ottiene il Green Pass o con la vaccinazione o perché si è guariti dal Covid o con un tampone molecolare o antigenico che non sia più vecchio di 48 ore io miei cari concittadini non voglio assolutamente entrare nel merito della diatriba di coloro che sono pro-Green Pass o contro-Green Pass o pro-vaccinazioni o contro-vaccinazioni non mi interessa assolutamente in questa fase io prendo semplicemente atto di una norma vigente di una legge dello Stato e mi piaccia o no devo applicarla e ancora cosa più importante devo farla applicare quindi c'è ben poco da discutere da domani dal 6 agosto 2021 cioè dall'entrata in vigore del decreto 105 del 2021 per ogni evento all'aperto anche all'aperto quindi ogni intervento all'aperto può essere svolto solo con posti a sedere distanziati di almeno un metro e si accede solo con Green Pass piaccia o no questa è la legge senza Green Pass in sintesi possiamo unicamente starcene ognuno per fatti nostri ma se voglio partecipare ad un evento pubblico devo avere il Green Pass ragion per cui dobbiamo considerarlo come un allegato fondamentale del nostro documento di riconoscimento né più né meno alla luce di questo l'unico posto dove è possibile a San Bartolomeo rispettare queste leggi rispettare queste queste regole per svolgere il concerto è il campo sportivo perché occorre un posto confinato occorrono degli accessi controllati e l'unico posto è quello diversamente significa non svolgerlo significa non fare il concerto significa non fare la festa e il che significherebbe anche non attrarre quel movimento che la festa porta che il concerto porta quello stimolo per la comunità e per le attività si potrà ecco l'accesso gratuito ovviamente quindi l'accesso gratuito potrà avvenire solo mediante prenotazione perché lo prevede sempre la norma e si potrà prenotare solo con il Green Pass ci saranno circa tra i mille e cinque e i duemila posti a sedere i tecnici stanno lavorando al piano di sicurezza dal quale scaturiranno i numeri precisi questa è una stima che abbiamo fatto e vi dico che è una bella sfida vi assicuro che non è semplice ma non abbiamo voluto rinunciarci pensiamo che San Bartolomeo meriti questo ed altro ovviamente ovviamente i mille e cinquecento i duemila posti cioè quelli che scaturiranno dal piano di sicurezza saranno solo quelli a sedere all'interno del campo sportivo ma ci sarà tutta l'area esterna del passeggio delle bancarelle con la possibilità di vedere perché c'è una bella visuale anche dall'alto dalla strada dall'alto c'è una bella visuale per vedere il campo sportivo quindi sicuramente il concerto sarà accessibile a un numero maggiore di persone e già non è poco come avverranno le prenotazioni io ancora non so dirvelo certamente avremo un numero di telefono dedicato e un indirizzo mail dedicato stiamo anche pensando ad una prenotazione online ma ancora non sono in grado di dirvi se questa vi sarà o meno le istruzioni precise ve le daremo entro il 15 agosto e ve lo comunicheremo con i nostri classici canali di comunicazione quindi lo troverete su facebook sul sito dell'ente mi raccomando dal giorno in cui ve lo comunicheremo affrettatevi perché anche se non sono pochi sono comunque limitati 1500 2000 comunque finiranno ci saranno anche altri eventi durante il mese di agosto già a cominciare da lunedì 9 agosto ci saranno diversi spettacoli e diversi artisti locali nelle varie piazze del paese il 9 nella piazzetta della chiesa nuva quindi a Corso Roma ci sarà Andrea Pepe il 15 a piazza Garibaldi Pasquale in blues il 24 il concerto bandistico a piazza Municipio il 18 Luciano e la sua jazz band il 19 a piazza Umberto il 19 Michele Agostinelli a supporti con chiesa il 21 la compagnia sulle lune eccetera eccetera insomma a breve nel giro di qualche giorno pubblicheremo il manifesto ogni spettacolo lo ripeto sarà composti a sedere cioè ci dovranno essere le sedie poste a distanza di un metro l'una dall'altra e per accedervi sarà necessario avere con sé il Green Pass vi dico che non è semplice con queste regole ma vi dico che sono convinto che ce la faremo e che verrà fuori una bella estate San Bartolomeano ed una bella festa nei limiti delle condizioni delle norme ma verrà fuori una bella festa ne sono convinto a proposito di covid vorrei toccare anche un altro argomento molto sentito ed è quello degli aiuti alle varie attività commerciali o produttive colpite dal covid molti con cittadini mi chiedono ma perché quegli aiuti ancora non vengono riconosciuti perché non vengono pagati perché non vengono accreditati bene ve lo dico subito e senza filtri ve lo dico senza girarci intorno il comune avrebbe potuto pagarli la settimana successiva a quella in cui sono state presentate le domande così facendo però avrebbe dovuto tenere fuori un numero rilevante di attività avrebbe dovuto escluderle questo perché gran parte delle domande erano fatte male o presentate addirittura dopo la scadenza dei termini eppure non ci voleva granché per farle certe cose ve lo dico senza girarci intorno francamente faccio fatica a comprenderle ed ora sto parlando dei vostri consulenti di alcuni vostri consulenti non tutti fortunatamente da che mondo è mondo il consulente è o meglio dovrebbe essere colui che studia quei percorsi leciti e sottolineo leciti per favorire il cliente o sbaglio cioè io mi rivolgo ad un consulente lo pago credo anche profumatamente affinché trovi delle soluzioni ai miei problemi soluzioni lecite o affinché compia delle azioni per le quali direttamente non ho delle competenze vado quindi da un consulente per farmi aiutare certamente non per farmi danneggiare eppure assistiamo a comportamenti di consulenti che sono incommendabili consulenti che studiano e immendano cavilli pur di non presentare l'istanza al cliente o di presentarla male sarò sicuramente io in malafede e farò sicuramente peccato a pensare male ma analizzando l'origine credo sia fatto di proposito per mettere in cattiva luce l'amministrazione ma il danno non è che lo stai facendo a me il danno non è che lo state facendo a me o all'amministrazione il danno lo state facendo ai vostri clienti clienti che hanno anche una bella pazienza e un grande limite di sopportazione dipendesse da me vi avrei già cambiato su due piedi qualcuno addirittura non gli ha caricato spese di bollette pagate incontanti perché questo a suo dire è imposto dalla legge perché la legge impone il tracciamento dei pagamenti hai ragione la legge impone il tracciamento dei pagamenti cioè impone che i pagamenti vengano tracciati ma la legge consente anche entro determinati limiti il pagamento per casse incontanti quando non è soggetto a degli obblighi particolari di rendicontazione allora mi chiedo faccio un esempio se il tuo cliente per esempio paga una bolletta dell'energia elettrica la bolletta della luce supponiamo per 3-400 euro e la paga incontanti tu che fai questa spesa di gestione la inserisci nel bilancio del tuo cliente o no la risposta è sì e allora come tu fai la scrittura contabile registrando il pagamento per casse come inserisci questa spesa in bilancio alla stesso modo alla stregua di questa registrazione tu inserisci questa spesa nelle spese rendicontabili delle spese gestionali che ha sostenuto il tuo cliente lo dice la legge non è che ci vuole chi sa tanto per capirlo ora per dar modo a tutti di poter eventualmente ripresentare le domande e sanare le varie posizioni abbiamo riaperto i termini del bando e questo bando resterà aperto fino al 10 agosto è tutto pubblicato sulla home page del comune è la determina numero 391 del 29 luglio 2021 e ancora una volta ringrazio anche per questa circostanza l'indescrivibile disponibilità profusa dagli uffici per risolvere il problema mi dispiace per coloro che non erano incappati in questo ciclo vizioso e le cui domande erano in regola che comunque sono state vittima di questo tempismo ma era mia premura spiegarvi la causa e l'origine spero sia chiara a tutti miei cari concittadini andando avanti nell'escursus di questa sera la mia onestà intellettuale mi impone di ringraziare anche la minoranza consigliare voi sicuramente mi darete del matto o penserete che all'improvviso sia stato affetto chissà da quale malore non vi preoccupate sto bene e ripeto che sento il dovere di ringraziare anche la minoranza consigliare la ringrazio per l'atteggiamento non ostile che ha assunto soprattutto nell'ultimo anno pur continuando le divergenze che ci hanno visto come antagonisti pur continuando ad essere chi maggioranza e chi opposizione si è avuta da ambo i lati la forza e il coraggio di mettersi insieme quando era necessario per il bene e per la tutela del nostro territorio e guardate che questo costa amici miei vi assicuro che personalmente costa tantissimo devi abbandonare questo vale da ambo i lati ogni forma di orgoglio non è che mi faccia piacere sedermi ad un tavolo o andare a braccetto con chi mi ha chiamato di tutti i colori ripeto vale per ambo i lati ma quando in ballo è il bene la difesa del territorio non ci sono orgogli che tengano e non ci sono bandiere che tengano quando è in ballo il bene e la difesa del territorio si sta tutti insieme e si lotta per la difesa del nostro territorio questo significa essere comunità e questo mi inorgoglisce ancora di più essere riusciti a smussare gli angoli essere riusciti ad abbassare i toni aver determinato quel clima di pace sociale era ciò di cui aveva davvero bisogno San Bartolomeo in Galta questo lo si riesce a fare tra persone indeligenti che davvero amano il proprio territorio grazie quindi al consiglio comunale nella sua inderezza grazie soprattutto per le battaglie che si stanno portando avanti una per tutte l'aggressione degli ultimi anni al territorio in materia di eolico avremmo potuto potuto tranquillamente creare delle fazioni come è successo in passato maggioranza e opposizione a ditarci gli un gli altri avremmo potuto farne battaglie di parte per la prima volta invece questo non è avvenuto per la prima volta la voce è unanime ed io su questo non posso tacere io su questo come vi ho detto sento il dovere pubblicamente di ringraziare tutti i consiglieri comunali tutti maggioranza e opposizione poi 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 ci saranno argomenti sui quali eventualmente continueremo a scontrarci e continuerete a dirmene di tutti i colori ci sta va bene ci sta ed io continuerò a rispondervi per le rime così come è sempre avvenuto ma su questo devo pubblicamente dare atto che l'attuale classe politica dirigente locale ha raggiunto un livello di maturità mai registrato prima ed io non posso che ringraziarvi a questo punto miei cari concittadini io mi avvio alla conclusione potremmo cimentarci in altro potrei come vi ho detto prima elengarvi opere ma non è questo non era questo il mio intento questa sera non mi interessa ciò che stiamo facendo l'ho detto prima è sotto gli occhi di tutti ciò che dovrà partire lo sapete e lo vedrete a breve ci tenevo invece a parlarvi dello spirito nuovo con cui si muove San Bartolomeo del ritrovato peso politico che è alla base del successo di questa amministrazione guardate miei cari concittadini uno degli aspetti più gratificanti ve lo dico davvero col cuore in mano uno degli aspetti più gratificanti che respiro nella comunità è questa ritrovata è sempre crescente fiducia nell'ente locale che voglio dire quando siamo stati eletti io lo ricordo benissimo spero lo ricordiate anche voi regnava uno scetticismo diffuso sì c'era la speranza che la nuova amministrazione potesse far bene ma c'era uno scetticismo diffuso quando veniva la gente a colloquio con il sindaco non credeva realmente a quello che gli veniva detto esponeva il problema si trovava la soluzione ma era scettica cioè se ne andava con quello scetticismo sì questo mi ha detto di sì ma mi prende in giro e questo evidentemente perché negli anni le prese in giro si sono sprecate in questi quattro anni gradualmente la fiducia nell'ente è iniziata a crescere ed oggi come dicevo prima io respiro questo senso di ritrovata fiducia nell'ente comune nel comune il comune è ritornato ad essere quel riferimento che deve essere avete un riferimento certo e sapete che se il sindaco dice A è A se il sindaco dice B è B e se promette mantiene e se non può mantenere se non può mantenere non promette se è no è no non è che io goda a dire no quando viene avanzata un'istanza e io vorrei dire di sì a tutti ma perché prendervi in giro se quella cosa non è possibile bisogna avere anche il coraggio di dire no forse non ne siamo ancora perfettamente consapevoli miei cari concittadini ma io ritengo davvero che nonostante il periodo nonostante tutto stiamo scrivendo una bella pagina di storia di questa meravigliosa comunità e io sento davvero l'obbligo e il dovere di ringraziare tutti coloro che stanno contribuendo a scrivere questa bellissima pagina di storia ringrazio i miei amministratori tutti ma davvero tutti per la combattezza che non è mai venuta a meno per non aver mai vacillato nessuno di loro mai e per la pazienza che hanno quotidianamente grazie ad ognuno di loro Andreina Lucia Maria Teresa Carmela Carmine Giacomo Claudio e il nostro vice sindaco Giovannino vi chiedo davvero per ognuno di loro un forte applauso perché sono davvero la mia forza e grazie alle loro famiglie la famiglia di un amministratore viene ingiustamente esposta ed è chiamata anch'essa a compiere dei sacrifici deve sopportare chiacchiere deve avere flessibilità sugli orari deve avere comprensioni maggiori e sfogare e sopportare sfoghi e nervosismi che non appartengono al contesto familiare come se non bastassero quelle che vengono già dal contesto familiare quindi grazie a tutte le famiglie degli amministratori ed in primis alla mia famiglia grazie a Francesca che è chiamata a supportare e sopportare il peso maggiore avendo quotidianamente a che fare proprio con me e grazie a tutti gli operatori del comune tutti diretti ed indiretti ringrazio il segretario comunale i dirigenti tutti i funzionari tutti i dipendenti nessuno escluso i consulenti gli operatori del servizio di igiene urbana e manutenzione questi fantastici ragazzi che ogni giorno si spendono per la comunità tutti gli operatori dello Sprar i ragazzi del servizio civile i tecnici e gli operatori delle varie imprese coinvolte nei lavori un grazie di cuore a tutti i ragazzi della protezione civile che vedo impegnati anche questa sera ai ragazzi della misericordia sempre presenti e preziosi in tutto siete davvero tutti meravigliosi ed ognuno di voi è una parte fondamentale di questo eccezionale puzzle che stiamo costruendo ci aspetta un ultimo anno di fuoco cari amministratori e cari con cittadini un anno in cui dovremmo fare ancora di più di quanto abbiamo fatto in questi quattro anni dopodiché ci saranno le elezioni tra primavera ed estate dell'anno prossimo ed il giudizio sarà nelle vostre mani noi ci saremo continueremo a spenderci a mettere a disposizione il nostro impegno il nostro tempo la nostra passione la nostra professionalità spenderà a voi stabilire se meritiamo di continuare questo grande processo di ricostruzione o se è opportuno che vengano altri o tornino altri a voi la scelta comunque vada usando parole non mie vi dico che amo talmente la mia terra che auguro a chi verrà dopo di me che sia fra un anno fra cinque fra dieci o fra vendi di poter fare meglio di me grazie a tutti buona serata e buona estate san bartolomiane mi raccomando sempre con prudenza indossate sempre la mascherina e green bus alla mano buona serata e buona estate di nuovo a tutti grazie grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti